La Banca d'Italia è delle banche private che ricevono ogni anno 340 milioni di euro dopo l'aumento di capitale, da 156 mila euro a 7,5 miliardi di euro. Allora ci sono alcuni giuristi che hanno chiesto al tribunale, alle procure, la confisca delle quote della Banca d'Italia. Sabato 18 l'avvocato Marra, Giuseppe Marra, farà un sit-in davanti al tribunale di Roma per sollecitare la confisca delle quote della Banca d'Italia, che non sono delle banche ma è del popolo italiano. Queste le dure parole del presidente Adusbef Elio Lannutti a Tgcom24, in merito alla denuncia che l'avvocato Alfonso Luigi Marra presenterà alla procura della Repubblica di Roma il prossimo 18 giugno. L'avvocato Marra, divenuto celebre in tutto il mondo per la sua lotta al signoraggio bancario e ai gruppi paramassonici come il gruppo Bilderberg, presenterà denuncia contro l'articolata fenomenologia criminale detta signoraggio, per chiedere alla magistratura il sequestro, la confisca, l'esproprio delle quote illecitamente private della Banca d'Italia e della BCE, nonché dei proventi illeciti realizzati e la punizione dei colpevoli. Secondo la tessi di Marra, il fatto che le banche private gestiscono il 95% delle quote della Banca d'Italia, che a sua volta controlla il 12,3% delle quote della BCE, costituirebbe un illecito e chiede alla magistratura di intervenire, restituendo ai cittadini la sovranità monetaria. La manifestazione del 18 giugno, diciamo nei confronti, per non dire contro la magistratura inattempiente, perché non provvede al sequestro, confisca, esproprio delle quote di proprietà privata, non solo della Banca d'Italia, ma soprattutto, direi, della Banca Centrale Europea, è legata al fatto che una decina di anni fa si è scoperto, perché non lo si sapeva, non lo sapevo neanche io che mi occupo di banche dall'80, perché è stato occultato fin negli atti del Parlamento con gli omissi, non si sapeva che la Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea fossero di proprietà privata. Ora, Banca d'Italia in particolare ha il 95% di proprietà privata, delle banche che controllerebbe, figuriamoci, ed è poi essa stessa proprietaria del 15% della Banca Centrale Europea, che significa che, confiscando le quote della Banca d'Italia, si confisca automaticamente anche il 15% della Banca Centrale Europea. Questa cosa è gravissima, è una cosa di terribile gravità, perché? Perché questa è la ragione del debito pubblico e della penuria monetaria, perché lo Stato dovrebbe produrre ovviamente da sé i soldi, non certo andarle a comprare da Totò, se si assette attenti a questa mia affermazione, Totò, perché la Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea non sono altro che un Totò, che come quello del film famoso in cui lui faceva il falsario, credo che tutti lo ricordino, è cresciuto, è diventato importante, è venuto a patti con gli Stati, è la stessa identica cosa, Banca Centrale Europea, Banca d'Italia, Federal Reserve, nel momento in cui producono da sé i soldi e li vendono poi allo Stato, facendosi di pagare con i puni del tesoro, fanno esattamente quello che faceva Totò nel famoso film, sono cioè dei falsari. Allora, perché la confisca? Perché qui al di là dei trattati, di tutte le idiozie che non hanno nessunissimo valore, questa gentaglia commette dei reati, reati anche di diritto comune, banali, al di là dei reati contro la personalità dello Stato, per esempio questi fanno il 416 bis, perché la magistratura, scrivo io nella denuncia che invito tutti ad andare a leggere, talora applica il 416 bis a dei pastorelli, ho scritto, che magari intimidano i proprietari dei fondi intorno, per mandarci a pascolare le loro pecore, è incredibile che la magistratura non ravvisi il 416 bis nei confronti di questi criminali che stanno distruggendo la vita dei popoli, quindi per fermare questo schifo non bisogna impugnare nessun accordo internazionale, niente, bisogna semplicemente applicare il codice penale. Grazie a tutti.